Sanità e autonomia De Luca contro tutti, il governatore protagonista di un aspro botta e risposta con Fratelli d'Italia che ha organizzato la marcia contro la Sanità in Campania. Battaglia anche sull'autonomia differenziata, in programma incontro con il ministro Calderoli. Rinasce la chiesa di Santa Lucia, ultimati lavori della facciata, del celebre luogo di culto, il progetto di recupero dell'associazione Respiriamo Arte e del Pio Monte della Misericordia, intervento dal forte valore sociale anche grazie al coinvolgimento dei giovani. Caos a trasporti a Napoli, Manfredi via risposte, dopo i gravi disservizi delle ultime ore la situazione torna lentamente alla normalità. Pendolari infuriati, i sindacati chiedono al primo cittadino di mantenere le promesse e accusano a distanza di un anno i disagi si sono aggravati. Sanio Morin e il cantiere in sei vanno a processo, torrecuso a distanza di tre anni dall'incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio di Paopisi. Il GIP del Tribunale di Benevento rinvia a giudizio il sindaco, dipendenti del comune e rappresentanti dell'impresa. Piazza Castello, ci siamo, lavori al rascio finale. Avellino dopo oltre dieci anni di transenne e chiusure polemiche si avvicina al completamento del cantiere. Ai nostri microfoni le aspettative di commercianti e residenti che sperano di tornare alla normalità entro Natale. Anziani sfrattati, polemica a Salerno, fa discutere il blitz dei vigili urbani contro il gruppetto che gioca a carte sul lungomare, opposizioni all'attacco e il comandante dei caschi bianchi assicura intervenuti dopo alcune segnalazioni, ma nessun sequestro. Questi erano i nostri titoli, buonasera, ben trovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In primo piano i temi della sanità e dell'autonomia, le due grandi battaglie a cui si prepara il governatore De Luca. Il Premier, la Premier Meloni, ha annunciato l'accelerata sulla legge per l'autonomia differenziata. Oggi il convegno al Cardarelli delle aziende ospedaliere. Sentiamo che cosa ha detto il Presidente. L'autonomia differenziata delle regioni entra ufficialmente nel programma della Premier, Giorgia Meloni. Dal suo discorso alla Camera è emersa la volontà di dare esecuzione al progetto della Lega, che ha già preparato la legge quadro. Un'accelerata che non piace alle opposizioni. Il Partito Democratico e i Cinque Stelle si dicono pronti alle barricate. Domani la prima conferenza Stato-Regioni con il neoministro Calderoli è sul punto. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal palco del convegno promosso dalla Federazione delle aziende ospedaliere al Cardarelli di Napoli, avverte che autonomia per noi deve significare decentramento dei poteri e sburocratizzazione radicale. Ci sono due campi nei quali bisogna mantenere l'unità nazionale, ha detto De Luca, la scuola e la sanità. Su questo ovviamente non ci saranno cedimenti. E proprio sulla sanità De Luca aspetta le iniziative del nuovo governo per risolvere il problema dell'emergenza di pronto soccorso e la carenza cronica di personale medico. È chiaro che c'è un problema di fondo che riguarda il personale dell'area critica che è estremamente ridotto. Quindi attendiamo che il nuovo governo prenda delle decisioni, delle decisioni efficaci in questo senso. Abbiamo sia un problema di scarsità del personale medico per l'emergenza, sia un problema retributivo. La condizione lavorativa dei medici che sono al pronto soccorso è ovviamente profondamente diversa da quella di altri settori. Vediamo il nuovo governo se prende decisioni adeguate alla delicatezza della situazione. E sulla marcia contro la sanità campana organizzata da Fratelli d'Italia a Salerno, la risposta di De Luca è stata netta. Sono degli idioti. Cala la curva dei contagi da Covid in campagna. Nell'ultimo bollettino regionale sono 2.900 i nuovi positivi. A fronte di 14.500 test effettuati, l'incidenza scende al 13,8%. Nel bollettino dell'unità di crisi si contano due vittime. Buone notizie dagli ospedali in discesa. I posti letto occupati sia nelle terapie intensive che nelle degenze ordinarie. Assolto per legittima difesa. La prima sezione penale del Tribunale di Napoli ha assolto perché il fatto non costituisce reato il gioielliere Giuseppe Castaldo che il 7 ottobre del 2015 ad Ercolano, armato di pistola legalmente detenuta, fece fuoco contro due rapinatori, Luigi Tedeschi e Bruno Petrone, uccidendoli sul colpo. La procura di Napoli aveva chiesto l'archiviazione e durante il dibattimento la soluzione di Castaldo. Sulla vicenda che destò molto scalpore e polemiche intervenne anche l'allora segretario della Lega Matteo Salvini che si schierò con l'imputato lanciando lo slogan Io sto con il gioielliere che scrisse sui social il neoministro delle infrastrutture del governo guidato da Giorgia Meloni. Torna a splendere la facciata di Santa Luciella. Siamo a Napoli. Oggi disvelato l'ingresso della chiesa della celebre Capuzella con le orecchie. Il recupero nasce dall'impegno dell'associazione Respiriamo Arte. La chiesa di Santa Luciella, ai librai del centro antico di Napoli, famosa anche per il teschio con le orecchie, ospitato nel suo ipogeo, da oggi è una nuova facciata realizzata grazie alla collaborazione tra operatori pubblici e privati accomunati dalla volontà di prendersi cura e di valorizzare il patrimonio storico e artistico di Napoli e di sostenere le giovani generazioni. Sviluppare lavoro, siamo partiti da questo, e poi sviluppare lavoro con la cultura è un binomio fantastico, quindi abbiamo dato subito il nostro sostegno e finanziato quelle sussate alle opere iniziali. Con il Pio Monte e Respiriamo Arte abbiamo contribuito a questo progetto importantissimo per il territorio, sia sotto l'aspetto culturale, ma anche sotto l'aspetto sociale. Santa Luciella, rimasta abbandonata per più di 30 anni, oggi è gestita dall'associazione Respiriamo Arte che rientra tra le associazioni riunite nella rete del Pio Monte della Misericordia. L'arte ancora una volta è al servizio del bene, perché in questo caso ha generato e genera occupazione giovanile e genera inclusione per quel che riguarda l'attività dei ragazzi e della scintilla. Questo è forse il tassello che mancava, dare una veste ancora più gradevole e meritata per una struttura così bella e che ha una storia importante e significativa per la nostra città. Ancora sangue sulle strade, un nuovo incidente stradale in cui ha perso la vita Salvatore Silvestre di 38 anni, infermiere di Napoli che lavorava all'ospedale civile di Venezia. Stava guidando la sua moto lungo la strada camionabile nel territorio di Spinea la mattina presto del 25 ottobre per recarsi al lavoro quando è stato impattato da un mezzo pesante che usciva da una ditta di trasporti all'altezza dell'incrocio con via Prati. Il caos trasporti a Napoli dopo i gravi disservizi delle ultime ore. La situazione torna lentamente alla normalità. Pendolari infuriati, i sindacati chiedono risposte al primo cittadino. Sentiamo. Sei ore di caos totale, metro linea 1 chiusa, traffico su gomma impazzito. Dopo il martedì nero, oggi la situazione sembra tornata quasi alla normalità ma nella città di Napoli il problema dei trasporti continua ad ingigantirsi senza soluzione. Non bastano i nuovi treni se poi tutta la tratta resta chiusa per un guasto al sistema di comunicazione e non basta aumentare le corse se poi gli autobus restano a terra in panne. Tutte le ricadute che stiamo avendo ora, sia positive con l'arrivo dei nuovi treni, sia negative ovviamente, hanno una responsabilità legata alla vecchia amministrazione. Però non vediamo nei cambi di rotta delle amministrazioni aziendali la mano della nuova amministrazione comunale. Io voglio far presente che negli ultimi quattro anni sono andati via cinque direttori generali in ANM e tre amministratori. Questo fa capire che la questione non è proprio serena. Siamo ancora in fase di concordato. Però quello che noi come USP denunciamo da troppo tempo è che si chiudono facilmente i depositi. Si taglia il servizio, ma gli sprechi, i superminuti per i funzionari, gli spendi d'oro per i dirigenti non si toccano. Qua gli unici che hanno perso in una crisi che ormai viene da troppo lontano sono i cittadini con la perdita del diritto alla mobilità e i lavoratori. Sono sei le persone che dovranno affrontare il processo per la morte di un operaio di 57 anni travolto e schiacciato mentre era a lavoro su un cantiere a Torrecuso nel Sannio. Vediamo. Sono sei le persone che affronteranno il processo per la morte di Vincenzo Iannella, l'operaio 57enne di Paupisi, travolto mentre era a lavoro. L'episodio nel settembre del 2019 a Torrecuso. L'uomo stava lavorando per conto di un'impresa del posto agli interventi di rifacimento delle fogne per l'istituto comprensivo del Paese. Dovranno dunque affrontare il processo che partirà il 29 maggio 2023 l'amministratrice unica dell'impresa esecutrice dei lavori e l'esercente di fatto dei poteri direttivi della società. Il sindaco di Torrecuso, il capo dell'ufficio tecnico comunale, uno dei soci, l'autista di una ditta di trasporti. A tutti viene contestata a vario titolo la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la CGL annuncia. Rispetto al caso di Torrecuso, ma come in altri casi, adesso con i nostri legali verificheremo anche la costituzione parte civile in quel processo. L'abbiamo votato nei nostri organismi dirigenti un qualche anno fa che la CGL si costituirà parte civile laddove viene ammessa in tutti i processi che vedono incidenti dove si denota la responsabilità dell'azienda perché non può essere più che un geritore, un padre di famiglia esce la mattina per lavorare e poi non torna più a casa. Come si ricorderà, secondo una prima ricostruzione, mentre era in uno scavo profondo 5 metri l'operaio, sposato e padre di due figli in tenera età era stato travolto da una massa di terreno che l'aveva schiacciato e non gli aveva dato scampo. E Valle rimarca quanto ancora ci sia da fare per la sicurezza. Incrementare gli organici degli ispettorati del lavoro perché inizia a serpeggiare un certo senso di impunità perché non ci sta più il controllo. Usura e distorsione, scacco al clan dei Rom di Agropoli. Carabinieri hanno arrestato tre persone accusate di aver taglieggiato imprenditori cilentani. I tassi potevano arrivare anche al 40%. Vediamo. Blizzi nel Cilento dove tre persone sono state arrestate con l'accusa di usura e distorsione. Destinatari delle misure restrittive sono padre e due figli, un uomo e una donna appartenenti al clan Cesarulo Marotta e già noti per reati specifici, reiterati e infracquinquennali. Per i due uomini si sono aperte le porte del carcere, per la donna invece gli arresti domiciliari. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Vallo della Lucania, è stata condotta dalla sezione del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Agropoli, diretta dalla capitano Fabio Lagarello, che ha spiegato nei dettagli l'operazione. È stato l'esito di un'attività investigativa che è durata diversi mesi, condotta dal nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Agropoli. Siamo riusciti a ricostruire le responsabilità di tre soggetti che esercitavano attività di usura e distorsione sul territorio cilentano. Si tratta di diversi episodi che hanno riguardato due vittime in particolare. I tassi applicati erano variabili, tra il 30 e il 40%, abbiamo stimato. L'operazione anti-usura assume una valenza ancora più importante dal punto di vista sociale in un momento così delicato per tante imprese e famiglie che a volte, non riuscendo a far fronte ai vari costi, si rivolgono agli usurai. Ci impegniamo ovviamente su tutti i fronti per essere vicino alla cittadinanza. Questo è uno dei più importanti. Raccogliamo tutte le segnalazioni, quindi approfitto per fare un appello per qualsiasi tipo di esigenza, anche in questo caso il 112 a vostra disposizione. Omicidio Gioia ad Avellino al via la perizia psichiatrica per i due imputati. Nuova udienza per il processo dell'omicidio del 53enne ucciso a coltellate dal fidanzato della figlia nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Avellino ha nominato il dottore Giuseppe Schaudione. Si inizia il 31 ottobre, il secondo accesso in carcere il 19 novembre. Il primo ad essere sottoposto a perizia psichiatrica sarà l'imputato Giovanni Limata. Poi toccherà alla ex fidanzata Elena Gioia. Da stabilire se i due imputati erano pericolosi socialmente all'epoca dei fatti e se erano affetti da malattie psichiche. Nessun far west, la situazione è sotto controllo. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, tranquillizza dopo gli episodi che si sono verificati nel centro storico. Vediamo. Nessun far west, situazione è sotto controllo. Mastella tranquillizza dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è attenuto questa mattina in prefettura Benevento. Un vertice è richiesto dal sindaco dopo gli inquietanti fenomeni di cronaca registrati nelle ultime ore nel centro storico cittadino. Dalla rissa scattata a seguito di un tentativo di violenza sessuale all'incendio di un bar in corso Garibaldi. E su far west c'è controllo, c'è prevenzione. Di questo do atto alle forze di polizia, con la sala guardia, diciamo, da parte del prefetto che è l'incaricato primo per quanto riguarda l'ordine e la sanità della nostra comunità. Non ci sono elementi che possono segnalare un momento vertigioso di criminalità. Certo, esiste la criminalità anche da noi, però insomma questo non è che deve far ripiegare né ritenere che la città sia in preda, a paura o preoccupazione. Quindi nessun far west, non ci sarà, non c'è nessun far west. Mastella annuncia poi novità per il sistema di videosorveglianza in centro storico. Il piano telecamera è stato già mandato da parte del Comune al prefetto che lo sta facendo esaminare le forze di polizia e subito dopo i morti saranno incontro ad hoc per quanto riguarda appunto la videosorveglianza. E il prefetto Torlontano fa il punto sulle indagini. Abbiamo delle immagini per quanto riguarda l'incendio del bar sulle quali stiamo lavorando, così come per gli altri episodi parlo dell'accoltellamento, è stato assicurato a giustizia l'autore e sono quindi in corso anche approfondimenti per quanto riguarda questi episodi. Su tutti c'è stata una risposta rapida, efficace e per molti di essi abbiamo già provveduto ad assicurare a giustizia gli autori. È deceduto in mattinata al CTO di Napoli Mario Solimeno, il 29enne di Eboli, ferito a colpi di pistola in un agguato a Rione Pescara lo scorso 29 settembre. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, fanno al tragico epilogo. Per l'artigiano salernitano non c'è stato nulla da fare. Il 29enne venne raggiunto da un proiettile al collo. Carabinieri e Procura di Salerno indagano per omicidio volontario. Andiamo ad Avellino in Piazza Castello verso il rush finale. Dopo oltre dieci anni di transenne e cantieri, chiusure e polemiche, si va verso il completamento della piazza. Vediamo. Piazza Castello Eterna è incompiuta, il centro storico spera nel rush finale dei lavori. Prende forma la piazza simbolo del centro antico e commercianti e residenti sperano che i lavori siano finiti entro Natale. Speriamo che per Natale tutto sommato finiscano perché già abbiamo avuto un forte danno con queste chiusure e le varie problematiche. Dopo tanto tempo era anche giusto ridonare alla cittadinanza una parte storica, bella e importante della città. Però ricca di attività, ricca di persone. Mi raccontavano che in passato veniva anche per le calda rosse qualcuno che i colleghi facevano passo a pranzo all'aperto. Quindi mi auguro che presto ritorniamo a fare passo a pranzo all'aperto. Sono almeno 15 anni che noi siamo qua e che la piazza non stanno i lavori. Quindi ci si augura anche per lo sviluppo di questa parte del territorio. Intanto traffico e nuovo piano mobilità dovranno fare i conti da novembre con il debutto ad Avellino della metro leggera. Proprio nel centro storico il passaggio della metro potrebbe creare non pochi problemi. Se parliamo di centro storico dovrebbero renderlo anche più vivibile, più accessibile. Non è troppo bello vedere questa cosa. Fa discutele a Salerno il blitz dei vigili urbani nel mirino. Gli anziani che giocano a carte sul lungomare. Tavoli e sedie mettono a rischio il decoro. Vediamo. Anziani che giocano a carte sul lungomare di Salerno e di vigili urbani che dopo una segnalazione intervengono per sgomberare l'aria. Anche perché tavoli e sedie tutto il giorno occupano lo spazio sulla passeggiata agganciati con pesanti catene di ferro. Il blitz dei caschi bianchi ha scatenato un vespaio di polemiche, opposizioni all'attacco e aspre critiche sui social. Il comandante dei vigili di Salerno però ridimensiona il caso. Non c'è stato nessun tipo di sequestro, nessun tipo di verbale. C'è stata soltanto una segnalazione da parte di diversi cittadini che hanno detto che quando finiscono di giocare questi vecchietti, queste persone anziane, sistemano questi tavolini con queste sedie, con una catena sui viali. E quindi diciamo non è un bel vedere. Gli anziani dunque potranno restare sul lungomare ma garantendo il decoro, previsto un incontro con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione capace di accontentare tutti. Ci mettiamo sul lungomare per fare una partita, siamo tutte persone anziane, tutti pensionati. Lo Stato a noi non ci ha dato niente, noi non prendiamo reti di cittadinanza, bonus social, prendiamo niente. Sono venuti, l'altra volta togliete le sedie di là perché qui non sono bene, metteteli l'altra, metteteli là. Ci dissero due vigili, proprio stavo io. Abbiamo preso la sedia, da qua l'abbiamo messo lì. L'abbiamo messo lì un'altra volta, dovete toglierle i boccioli. Poi l'aiuto è venuto anche il comandante e ha detto che poi ci faceva sapere lui che cosa dovevamo fare. La sfida del turismo passa anche dall'Università Napoli, primi laureati nel corso di hospitality manager della Federico II. La sfida del turismo passa per la collaborazione di tutte le componenti territoriali, non solo dell'imprenditoria dedicata e delle istituzioni, ma anche dell'istruzione. Per questo si guarda con favore al corso in hospitality manager della Federico II che oggi ha visto il graduation day a Napoli. Un percorso importante, un percorso innovativo, un percorso su cui l'abbiamo investito molto. È il primo corso in Italia in hospitality management, un corso quindi unico per adesso, innovativo, e che vede oggi i primi laureati. 60 studenti che hanno raggiunto il loro obiettivo finale dopo tre anni di lavoro duro. Una didattica innovativa e rispondente alle richieste del settore dunque, per cogliere le opportunità che ne derivano e che ne deriveranno. È un corso di laurea diverso dalla impostazione italiana tradizionale, con un forte approccio internazionale, innovativo, ed era una sperimentazione. Quindi è stato un lavoro meraviglioso di squadra tra università, istituzioni e mondo delle imprese. Una sfida importante quindi col territorio che si è fatto trovare pronto. Una grande sfida, sfida che hanno saputo cogliere gli studenti, hanno saputo cogliere i docenti e anche il territorio. Speriamo che questo corso sia solo il primo passo verso una formazione specialistica nel settore del turismo e dell'ospitalità, di cui tanto ha bisogno la nostra regione. Salvare l'alto calore e la gestione pubblica dell'acqua ad Avellino, politica e mondo sindacale hanno incontrato il vice governatore Bonavitacola. Vediamo. Bene le parole di Bonavitacola su alto calore e gestione pubblica dell'acqua. Ora però seguono atti concreti per salvaguardare il patrimonio idrico in Irpinia. Dalla politica e dal mondo sindacale l'appello alla regione Campania per mettere in campo ogni azione possibile per la sopravvivenza dell'alto calore. Sono ormai quattro anni, tre anni e mezzo, quattro anni che ha promesso i famosi 60 milioni di euro per il rifaricimento delle rete idriche di proprietà regionale per combattere la dispersione idrica. Nulla da obiettare sulla gestione pubblica dell'acqua che è un nostro cavallo di battaglia, però Bonavitacola ha accolto anche un punto fondamentale, quale il passaggio in tribunale sull'accenda del fallimento alto calore. Effettivamente il tutto passa da lì, dall'esito di questa udienza. Ma intanto la CGL lancia l'allarme sulla multiutility che deve mettere insieme acqua, depurazione e rifiuti nelle intenzioni del presidente della provincia Rizzieri Buonopane. C'è poca chiarezza, dice Fiordellisi. Le beghe politiche ostacolano il progetto. È di fatto vanificata per una serie di attività che sono successe sia dentro la votazione di alto calore ma anche delle difficoltà, chiamiamole difficoltà o divergenze, forse è meglio dire politiche, tra gato, rifiuti e la proprietà di Irpini Ambiente. Noi puntiamo a una gestione che sia di scala di tutti questi servizi a tutela di questi soggetti che li ho appena detto, che vanno dall'ambiente ai lavoratori passando per i cittadini. Questa cosa ad oggi manca e chiediamo con forza un tavolo. Un disastro costato oltre 300 morti e 5.000 sfollati. Salerno ha ricordato l'alluvione del 54. Una tragedia impossibile da dimenticare che ha segnato per sempre il territorio. Salerno e la costiera malfitana hanno ricordato la tragica alluvione del 1954 che provocò 318 vittime, 250 feriti ed oltre 5.000 senza tetto. In città la cerimonia di commemorazione presso il monumento che ricorda quei tragici avvenimenti. L'alluvione del 1954 del 25-26 ottobre non è solo un ricordo. Oggi siamo qui a ricordare le 100 vittime, ma soprattutto per poter fare in modo che queste grandi tragedie non si ripetano né nel comune di Salerno, né nella provincia, né in tutti gli altri territori. Molte parti della città hanno delle testimonianze. E poi c'è anche al cimitero, c'è una parte dedicata alle vittime dell'alluvione. Un disastro che è anche un monito affinché oggi più che mai si tenga conto della necessità di rispettare il territorio contrastando il dissesto idrogeologico. È un'emergenza oltre al nostro territorio, soprattutto nel territorio dell'Agronocerino Sarnese che è particolarmente colpito, ma anche ultimamente nella zona del Cilento dove ha visto impegnate quasi tutte le squadre che sono a disposizione e non solo, ma anche quelle da altre province e da altre regioni in casi eccezionali. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. In regia Michele Urciolo, grazie per l'attenzione e una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.